Nella mia learning story viene raccontata un'attività di storia e geografia dove si coniugano gruppi eterogenei di studenti e ambiti disciplinari differenti. L'aula è progettata per lavorare a piccoli gruppi. Il valore aggiunto è avere oltre l'ambiente aula flessibile un altro ambiente chiamato aula plus dove si possono svolgere attività diversificate o complementari all'attività che viene svolta. Nell'aula sono presenti 24 banchi trapezoidali che servono per realizzare i lavori di gruppo. Questi banchi sono infatti modulari, sono anche presenti dei device, è anche previsto un angolo morbido in maniera tale da potersi riposare ma anche per poter lavorare in maniera informale. L'aula prevede anche una libreria formale e informale, si coniugano con questo ambiente di apprendimento flessibile per il successo formativo dell'intero gruppo classe. Valore aggiunto di questo ambiente è proprio poter smontare e rimontare gli arredi in relazione a quelle che sono le attività da svolgere e gli ambiti disciplinari coinvolti in queste attività.